Applausi scroscianting e standing ovation per il Presidente Sergio Mattarella all'inaugurazione di Trento Capitale Europea ed Italiana del Volontariato. Una cerimonia partecipata al Palazzetto T quotidiano Arena in cui il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza del volontariato. Un discorso di più di 20 minuti interrotto da applausi continui. Caloroso il saluto al Sindaco di Leopoli, presente tra le autorità. Desidero rinnovargli i sentimenti di amicizia che hanno radici antiche e solide e che le drammatiche conseguenze della brutale invasione dell'Ucraina hanno ulteriormente rafforzato. La libertà, l'indipendenza e l'Ucraina sono tutt'uno con i valori fondativi dell'Europa. Il volontariato esprime una visione del mondo, quella della indivisibilità della condizione umana, il famoso I care. Mi riguarda, fatto proprio da Don Milani e da Martin Luther King, una visione che pone in primo piano la persona, l'integralità della sua vita, il suo pieno diritto a essere parte attiva della comunità. Per questo valorizza le relazioni tra le persone, il dialogo, l'amicizia. Un impegno che nei piccoli ambiti immerge ogni giorno le mani nei problemi e negli affanni concreti. E tuttavia porta a pensare in grande, perché sa che ognuno contribuisce al cammino di tutti. La solidarietà è un moto che parte dalle coscienze, reca impresso il carattere dell'ascolto dell'altro e della generosità. A ben guardare è essa stessa una vitale necessità. Abbiamo bisogno di solidarietà. mondo 2024 del volontariato a voi, all'Italia, all'Europa.